Non si rassegnava la fine della storia d'amore e ha perseguitato a lungo la sua ex, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. Un uomo di 65 anni è stato arrestato ad Altamura, incensurato e ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna, una 51enne del luogo. Diversi gli episodi denunciati dalla vittima. Oltre ai pedinamenti e alle telefonate, vi è anche un'aggressione fisica che ha costretto la donna a sottoporsi a cure ospedaliere con una prognosi di 15 giorni. Nonostante questo, l'uomo intanto continuava a chiederle di tornare insieme, tanto che la donna, in un crescente stato di ansia e paura, è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bari. Il 65enne si trova ora agli arresti domiciliari.